Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato, buonasera, benvenuto a Thomas Piketty, tra i più celebri economisti al mondo, massimo esperto di lotta alle disuguaglianze sociali. Buonasera Veronica De Romani, economista, buonasera Stefano Feltri, direttore del Domani. Allora, l'Italia post-pandemica e quindi del recovery plan e della ricetta di Draghi, sarà più di destra o più di sinistra? Per rispondere ci aiuterà il professor Piketty, che l'economist arrivò a definire più grande di Marx. Subito dopo la pubblicità. Grazie. 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 Professor Piketty, lei è diventato una celebrità sette anni fa con il suo Il Capitale del ventunesimo secolo che diventò un best seller mondiale. In questi giorni lei si trova al Festival dell'economia di Trento. Le volevo chiedere, usciremo da questa pandemia anche in Italia, più di destra o più di sinistra? Beh, dovremmo scegliere. Non lo so, in questo momento l'Italia sta cercando di essere sia di destra e sia di sinistra. In generale ritengo che il mondo si stia spostando verso la sinistra dopo la pandemia. Piano piano assistiamo alla necessità di più servizi pubblici, più investimenti. Quindi ci siamo resi conto che non avevamo investito abbastanza nella sanità. Penso che prima o poi, forse non adesso, forse ci vorranno alcuni anni, però il mondo sarà più giusto. Ci sarà una distribuzione più equa delle risorse anche in Italia e in Francia. Professor Pichetti, ma diciamo il curriculum di Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio italiano, è quello giusto per rendere l'Italia un paese più giusto? E lo farà andare in quella direzione che lei auspica del socialismo partecipativo? Perché probabilmente non possiamo definire Mario Draghi né un socialista né un uomo di sinistra. Io auspico una distribuzione più equa delle risorse. Per esempio, in Italia, il 50% degli abitanti detiene soltanto il 5% della ricchezza pubblica, mentre invece il 10% della piramide detiene il 60% della ricchezza. L'idea è che dobbiamo fare del nostro meglio e dobbiamo riequilibrare la bilancia. Dobbiamo riequilibrare la bilancia tassando di più, perché questa sarà l'unica strada, ma interpello subito gli altri due interlocutori. Professoressa De Romanis, pensa che sia realizzabile quello che ci ha appena spiegato il professor Pichetti o è utopistico, per esempio, per un paese come l'Italia? Il paese del Comune Italia viene da 20 anni di bassissima crescita. Per dare un dato, noi siamo cresciuti del 7%, paesi come la Francia e la Germania oltre il 30%. Abbiamo un numero, una percentuale di giovani che non studiano, non lavorano, che è la maggiore in Europa, 3 milioni, e soprattutto le persone in povertà assoluta sono aumentate, sono raddoppiate dal 3,3% al 7,7%. Quindi è fondamentale ricomporre la spesa, mettere la spesa lì dove serve. Questo non è stato fatto in passato, perché cito una misura come per esempio quota 100, quota 100 è una misura molto costosa. La Commissione europea, proprio nel rapporto che ha pubblicato in questi giorni, ci dice che ci costa circa 0,4% del PIL, eppure sono soldi che noi abbiamo messo con l'obiettivo di dare un lavoro e un'opportunità, un futuro ai giovani, e questo non è avvenuto. Ai giovani abbiamo lasciato solo molto debito. E quindi? Altre misure come per esempio il reddito cittadinanza è servito per la povertà, ma non è andato veramente ai veri poveri, quindi alle famiglie con figli a carica. Quindi è fondamentale ricomporre la spesa. Per quanto riguarda invece l'incremento delle tasse, noi abbiamo bisogno di ridurre le tasse. Questo ce lo dice la Commissione da diversi anni, dobbiamo ridurre la pressione fiscale, ma soprattutto anche dal lato delle entrate dobbiamo effettuare una ricomposizione. Noi tassiamo troppo il lavoro, abbiamo un cuneo fiscale intorno al 46,5%, meno le rendite e abbiamo delle tasse come l'IRAP che andrebbero anche eliminate. Quindi va rivisto tutto il bilancio pubblico. Stefano Feltri, è possibile rivedere tutto il bilancio pubblico in questo momento, con questo governo, con questo Presidente del Consiglio che è Draghi? Noi sappiamo dagli studi del Professor Piketty che la ricchezza tende ad accumularsi naturalmente verso l'alto praticamente e questo crea delle distorsioni forti sulla società. Noi adesso abbiamo un piano che si chiama Next Generation, abbiamo dei vincoli europei che ci impongono di uscire da questa crisi riequilibrando la distribuzione non solo della ricchezza ma anche delle opportunità e questo per stare alla battuta iniziale di Piketty, cioè dobbiamo scegliere se uscire da questa crisi di destra o di sinistra, vuol dire che noi in questo momento dobbiamo decidere se riequilibrare la distribuzione delle risorse spostando dalla generazione successiva a quella attuale, cioè emettendolo il debito pubblico che serve a preservare lo status quo, che serve a mantenere l'attuale società italiana, oppure se vogliamo creare le opportunità per la generazione successiva. Questo si fa alzando alcune tasse e abbassandone delle altre, perché è vero che noi in Italia paghiamo troppe tasse, ma ne abbiamo tagliate due negli ultimi 20 anni. Abbiamo tagliato l'imposta di successione, che è quella che serve a ridistribuire la ricchezza, e abbiamo tagliato l'imposta sugli immobili, cioè sulla ricchezza accumulata nel mattone. Ecco, quindi noi abbiamo l'esigenza di ridistribuire ricchezza e opportunità perché questo è l'accordo che abbiamo fatto a livello europeo. Se non lo faremo, succederà quello che auspica l'ex ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, cioè succederà che dall'esterno tornerà una pressione per farci andare nella direzione che rende sostenibile il nostro debito. Cioè tornerà una pressione sul debito pubblico, ma a quel punto avremo perso l'occasione di decidere da soli in che direzione andare. Professor Piketty, stiamo facendo troppo debito in Italia ed esiste quella cosa che Mario Draghi chiama debito buono? Sa, penso che ci sia molta energia, ma molta energia viene depauperata, soprattutto nei giovani italiani. I giovani italiani non dispongono delle risorse adeguate per realizzare i propri sogni, per investire nell'istruzione superiore, per creare delle start-up o delle nuove imprese. Io non chiedo un'imposizione più aspra, ma una ridistribuzione delle opportunità finanziarie, in modo che i giovani abbiano nuove opportunità e che la ricchezza del Paese sia ridistribuita, soprattutto a livello della produzione e non dell'assistenza. Bisogna anche ridurre la burocrazia. Penso che non servano incentivi per creare delle imprese per i cittadini comuni, quindi bisogna ridistribuire le opportunità accademiche e scolastiche, ma anche le opportunità economico-finanziarie, in modo che tutti i giovani di 25 anni possano avere un aiuto per avviare nuove attività. Professor Picchetti, la fermo un attimo, perché le voglio chiedere, siccome il leader, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che lei forse avrà anche incontrato a Parigi tante volte, Enrico Letta ha proposto recentemente una tassa sull'eredità e sulle donazioni per i patrimoni superiori ai 5 milioni di euro. Lo stesso Draghi ha risposto in modo molto freddo, dicendo che ora è il momento di dare e non di prendere ai cittadini. È così oppure, per esempio, su questo fronte bisognerebbe osare una tassazione? Beh, se Draghi ha dei soldi da dare a ogni singolo 25enne italiano, sarebbe una bella notizia. Io sarei molto d'accordo con questa iniziativa, non so come possa finanziare questa misura, se non tassando i miliardari o i milionari. Quindi se Draghi non ha bisogno di questa imposizione, meglio, non lo so se forse ha dei poteri magici. Non credo a dei poteri magici, professoressa De Romanis. e diciamo tassare il patrimonio, tassare l'eredità, tassare la casa. Ricordava Stefano Feltri prima che sono due tasse che sono state tolte nel nostro paese. Invece forse sarebbe proprio necessario per dare qualche cosa di più ai più giovani, anche perché non possiamo continuare a indebitarci, indebitarci, indebitarci. Sicuramente non possiamo continuare a indebitarci, ma qual è l'obiettivo di dare questa dotazione? Thomas Piketty parlava a 25 anni, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta parla di una dote a 18 anni. Qual è l'obiettivo? Dare ai 18 anni un futuro. Ma il futuro dei 18 anni si crea molto prima, si danno delle opportunità già quando sono molto più piccoli attraverso la scuola, l'educazione, la formazione, attraverso i servizi pubblici. Il punto è che noi non dobbiamo dare ai nostri giovani sussidi e assistenza, dobbiamo dare servizi di qualità. Sì, ma qui mi scusi professoressa, mi scusi se la interrompo. Che sia omogenea in tutto il territorio. Professoressa, la interrompo per chiederle se è giusto tassare i patrimoni più alti, è giusto tassare l'eredità e le dotazioni sopra i 5 milioni di euro, è giusto pagare un'imposta sulla prima casa o no? Guardi, tassare l'eredità è un tipo di tassa che dà in Italia, l'abbiamo visto, un gettito limitato e soprattutto discontinuo perché non è un'entrata regolare che deve andare a finanziare invece un sussidio che come viene proposto è un sussidio permanente. Cioè ogni anno io devo pagare questa dote ai 18 anni. Quindi io cercherei le coperture attraverso una ricomposizione della spesa, come dicevo prima, e attraverso una riforma organica. Ma gli altri paesi ce l'hanno questa tassa? Ma sicuramente il punto, bisogna distinguere due cose, aumentare le tasse e cosa fare con il gettito. Aumentare le tasse, secondo me, in questa fase si può fare se ne riduciamo altre, perché noi siamo un paese con una pressione fiscale estremamente elevata. Per quanto riguarda invece cosa ci facciamo col gettito, io penso che oggi ai giovani 18 anni bisogna dare delle opportunità e soprattutto, e concludo, devono essere uguali per tutti, perché se io a parità di reddito do lo stesso sussidio a un ragazzo che può usufruire di una scuola pubblica di buona qualità e un altro invece che la stessa scuola pubblica non è della stessa qualità, questo sussidio verrà sfruttato molto meglio dal primo. Quindi il sussidio rischia di amplificare le isuguaglianze, non di ridurle. Quindi la qualità della spesa pubblica è fondamentale. Dobbiamo smetterla di pensare in un'ottica assistenzialistica. Poi sulla riforma del fisco, io sono d'accordissimo con Mario Draghi, ci vuole una riforma organica e non fatta a pezzettini. La riforma organica, Stefano Feltri, la stiamo aspettando da qualche decennio e soprattutto stiamo aspettando da qualche decennio una efficace lotta alla storica evasione fiscale nel nostro paese. Tu cosa pensi? No, io stavolta non sono d'accordo con Veronica De Romanis perché proprio gli studi di Picchettici dimostrano che la tassazione sull'eredità è giusta di per sé perché la ricchezza tende ad accumularsi in maniera esponenziale, cioè più una persona vive a lungo con redditi alti più beni accumula. Se quella persona poi muore e lascia questa eredità a qualcun altro quello partirà con tanta ricchezza che a sua volta genera altro eredito che si accumula e così le nostre società diventano molto diseguali, molto in fretta. Quindi di per sé è giusto tassare l'eredità ed è giusto tassarla da una prospettiva liberale, non da una prospettiva solo di sinistra, tanto che da anni l'economist fa delle copertine chiedendo la death tax, la tassa sulla morte. Meglio tassare i morti che tassare i vii. Però i ricchi tendenzialmente sono pochi e potenti e influenzano la politica. Quindi la proposta di Letta dice creiamo una coalizione alternativa che dice i soldi non li prendiamo ai ricchi morenti solo per ragioni di giustizia, ma perché li ridistribuiamo a favore dei giovani. È vero che sarebbe meglio avere un sistema di opportunità migliore per tutti ed è vero che le opportunità si decidono già dall'asilo nido, ma è molto più semplice dare 10.000 euro a un ragazzo che nasce e cresce a Catanzaro come a uno che nasce e cresce a Milano piuttosto che offrire al ragazzo di Catanzaro le stesse opportunità in termini di scuola e opportunità extrascolastiche che ha una persona che cresce in una città con un PIL pro capite molto più alto. Questo è semplicemente lo schema, non è una soluzione perfetta, non è detto che funzioni e tutti i dubbi sulle coperture sono assolutamente fondati, ma da un punto di vista di equità e di giustizia è sicuramente una soluzione molto migliore di quella attuale. Questo credo che sia difficile contestare. Professor Picchetti, diciamo che in un paese come l'Italia che ha obiettivamente una tassazione molto alta, parlare anche solo, solo accennare a una nuova tassazione scatena un puttiferio. Noi siamo anche il paese che sotto pandemia ha varato una legge, una norma che vietava di licenziare. Ora questa legge la stiamo per togliere, e ce lo chiede anche l'Europa. Secondo lei è giusto mantenere questo blocco dei licenziamenti? Serve realmente a qualche cosa? Oppure significa una distorsione del libero mercato? Penso che dobbiamo essere molto attenti. Non dobbiamo smantellare troppo rapidamente le misure assunte durante la pandemia. Altrimenti ritengo corriamo il rischio di conseguenze in fauste per la disoccupazione. Vorrei affermare che credo nella creazione di posti lavoro, soprattutto per i giovani in piccole imprese. Pertanto credo in opportunità per tutti i giovani, anzi per tutti i bambini. Questo è un elemento fondamentale. È importante la scuola ma sicuramente è importante fornire degli strumenti per creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese. Sicuramente l'eredità media è circa 150 mila euro. Per altri invece sono miliardi o milioni. sicuramente questo mondo non è un mondo giusto di pari opportunità opportunità giuste per tutti dal punto di vista economico. Le giuste opportunità le pari opportunità economiche è un concetto bello piace a tutti però quando bisogna attuare questo principio qualcuno si risolleva qualcuno storce il naso perché della ricchezza verrebbe comunque ridistribuita. Professor Pichetti a quanto ammonta la tassa sull'eredità in Francia? Quanto è alta? La liquota più alta è 45% più o meno lo stesso della Germania Gran Bretagna Stati Uniti e Giappone questi cinque paesi si trovano in una forchetta tra il 35 e il 45% Non c'è nessuna soglia? No mi riferisco alla liquota più alta più di 5 milioni più di 2 milioni gran parte gran parte della popolazione il resto della popolazione il 70% non paga nulla e poi questa imposta cresce gradualmente fino al 45% fino all'ultimo scaglione Quindi una tassa progressiva Senta le voglio chiedere ancora una cosa a Professor Pichetti perché lei ha detto all'inizio della nostra trasmissione che usciremo da questa pandemia più di sinistra che di destra Ora leggiamo in queste settimane che per esempio nel suo paese in Francia dove andrete alle elezioni presidenziali l'anno prossimo l'attuale presidente Macron è insidiato da Marine Le Pen che addirittura nei sondaggi sarebbe più alta di Macron Noi in Italia abbiamo in fortissima crescita la leader della destra ultra nazionalista del partito Fratelli d'Italia lei si chiama Giorgia Meloni che sembra in grado di sorpassare il sovranista Salvini quindi non teme che invece alla fine vinceranno le destre in Europa dopo questa pandemia? Sa penso che serva una politica ambiziosa di redistribuzione tra i ceti sociali altrimenti corriamo il rischio di foraggiare la collera contro i migranti o gli stranieri perché se non vengono tassate le multinazionali i cittadini più agiati poi diventa più facile prendere di mira gli stranieri i migranti insomma questa ricetta non funzionerà io non voglio cercare questa ricetta quella dell'estrema destra non mi piacerebbe abbiamo visto che cosa è successo negli Stati Uniti e non penso che sia la direzione giusta quella penso che l'anno prossimo con le elezioni francesi vedremo probabilmente quanto visto nel 2017 c'erano quattro candidati che si trovavano tra il 20 e il 25% nei sondaggi e al primo turno quindi abbiamo visto una battaglia molto intensa due diciamo quattro candidati avrebbero potuto trovarsi in finale al ballottaggio finale però penso che la situazione sarà altrettanto incerta l'anno prossimo ricordatevi bene che prima delle elezioni francesi ci sono quelle tedesche a settembre ed è possibile che i socialdemocratici siano insidiati al potere probabilmente addirittura ci possessero coalizioni con i verdi e l'SPD se vediamo i sondaggi i cristiano democratici sono indietro e questo provocherebbe un cambiamento del panorama politico europeo e lei che ruolo vede per Draghi in diciamo nel nuovo panorama politico europeo perché ha ragione a ricordare elezioni cruciali in Germania il prossimo settembre dove il partito di Angela Merkel rischia di prendere una brutta battosta Mario Draghi che ruolo può giocare che ruolo avrà in Europa mi piacerebbe vedere Mario Draghi e l'Italia compiere proposte ambiziose per cambiare la governance europea penso che dobbiamo adottare la regola della maggioranza per le regole per le decisioni di bilancio mi piacerebbe che l'Italia e la Germania e la Spagna avanzassero delle proposte per il voto a maggioranza per le decisioni di bilancio e poi questa misura dovrebbe essere accompagnata da altri motori da altre possibilità di aprire altri foro all'interno dell'Europa per aprire la nostra società per esempio i grandi paesi potrebbero adottare questa misura e altri potrebbero unirsi senza una riforma delle regole europee non saremo in grado di affrontare una possibile crisi futura non vogliamo che il 2020 si ripeta penso che sia meglio riformare l'Europa senza una pressione esogena quindi non dobbiamo soltanto concentrarci sul PIL non dobbiamo perdere tempo questo è un altro aspetto importante Italia Spagna Germania devono cercare di intavolare un dibattito più intenso riguardo le misure sociali riguardo il bilancio europeo non devono lasciare questo argomento a pannaggio di Merkel e Macron devono avanzare delle proposte valide sul tavolo negoziale europeo senti a professor Piketty se le chiedessi un consiglio che lei darebbe al presidente del consiglio Draghi una cosa che dovrebbe fare adesso subito e che si potrebbe fare a livello proprio della politica interna italiana l'Italia ha bisogno di una tassa di successione per ridistribuire la ricchezza in favore dei giovani giovani che non hanno accesso ai beni che non hanno opportunità di creare nuove imprese in questo modo il paese sarebbe molto più dinamico e riuscirebbe a riprendersi molto bene dalla pandemia evitando i sussidi per i giovani allora De Romanis e Feltri sarà difficile tanti dicono che il governo Draghi è molto più influenzato dalle destre che all'interno del governo che dalle sinistre quindi che previsioni fate telegrafiche Il governo Draghi è un governo che è stato chiamato per fare delle cose quindi non gli darei un colore politico ma volevo fare un commento su quello che diceva il professor Picchetti in realtà Draghi ha fatto delle proposte molto ambiziose in sede europee una per esempio è quella di trasformare il Next Generation EU in uno strumento permanente ad oggi sappiamo che queste sono delle risorse che verranno date noi siamo il primo beneficiario solamente in una tantum e invece l'idea è di trasformarlo in uno strumento da aggiungere nella cassetta degli attrezzi europei questo significa andare verso un bilancio comune verso una maggiore integrazione fiscale quindi rendere l'Europa sempre più forte e sempre più integrata l'altra proposta che ha fatto Draghi è quella invece per uno strumento che noi stiamo usando nell'emergenza il famoso SURE che sono dei prestiti europei per finanziare la cassa integrazione anche quello è uno strumento temporaneo e anche in questo caso Draghi ha proposto che diventi uno strumento permanente questo rafforzerebbe il mercato del lavoro e si creerebbe anche un mercato del lavoro più europeo quindi più integrato quindi io direi che le proposte ci sono è chiaro che ci vuole una volontà politica anche degli altri paesi Stefano Feltri ma i 5 Stelle non avanzano nessuna proposta da tempo sono un po' persi nelle loro nebbie dei contenziosi con Russo il PD avanza molte proposte su Twitter e poche articolate davvero in questo abbiamo parlato dell'eredità universale per esempio è nel libro di Enrico Letta ma non è parte del dibattito parlamentare vedremo se quando si aprirà il cantiere della riforma fiscale ci saranno dei contributi articolati dal centro-sinistra o invece rimarranno prevalentemente Lecce Forza Italia che sono questi dossier più attivi e più tradizionali hanno sempre le stesse posizioni meno tasse e meno vincoli quindi mettere insieme queste diverse scuole di pensiero è complicato però intanto con le vaccinazioni e con la progressiva uscita dalla pandemia sta tornando una cosa molto importante che ci è mancata molto come ci spiega Paolo Pagliaro guardate il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha dunque stabilito che tra chi ha fatto il vaccino anti-covid sono consentiti gli abbracci persino quelli senza mascherina stando a quanto assicurano popolari i virologi ora c'è da attendersi che con l'avanzare della campagna vaccinale possano essere nuovamente autorizzati anche i baci uno dei gesti più penalizzati mortificati e vilipesi durante la pandemia di covid-19 perché come è noto mentre per i poeti e per noi tutti attraverso le labbra ci si scambia amore passione affetto dedizione per gli scienziati si tratta di scambi molto più materiali cibo ormoni e talvolta virus ora che i baci stanno finalmente per tornare ufficialmente autorizzati è possibile approfondire la questione grazie a un prezioso volumetto appena edito da Einaudi lo hanno scritto due antropologi Elisabetta Moro e Marino Niola e il titolo è Baciarsi la tesi è che senza corpi che si toccano mani che si stringono labbra che si sfiorano la comunità si disincarna e diventa pura astrazione per due anni i governi hanno messo il bacio in quarantena cosicché il 2020 e il 2021 passeranno alla storia come gli anni dell'eclissi del bacio che non è una misura sanitaria come un'altra ma scrivono Moro e Niola è un lockdown dell'anima c'è stato solo un momento in cui la scienza anziché vietare i baci li ha incoraggiati accadde il 2 dicembre del 1991 quando l'immunologo Fernando Aiuti baciò pubblicamente sulla bocca Rosaria positiva all'HIV quel gigante della medicina volle così mostrare al mondo che l'AIDS non si trasmetteva attraverso lo scambio di saliva allora fu un bacio a piegare il pregiudizio adesso un bacio ci dirà che l'emergenza è finita siamo in chiusura grazie professor Picchetti e ricordo che il suo ultimo libro tradotto in Italia è Capitale e Ideologia pubblicato dalla nave di Teseo grazie Veronica De Romanis grazie Stefano Feltri grazie spettatrici spettatori vi lascio i programmi della rete e noi come sempre ci vediamo lunedì 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti